Il dialogo e la mediazione intanto è un'attitudine, un'abitudine anche di vita, uno stile di vita e ci credo molto in tutto. Abbiamo ricercato di reintrodurre la mediazione nell'ultimo decreto, abbiamo fatto anche l'emendamento, abbiamo sostenuto la legge Alfaro con grande forza e la continueremo a fare. Abbiamo dei dati confortanti anche da Confindustria che ci dicono come tanti consenziosi si sono risolti a monte grazie alla mediazione per cui col prossimo Parlamento vediamo se riusciamo ad essere massicciamente presenti e a vincere come popolo delle libertà, avere la maggioranza e quindi poter riprendere un percorso che altri nel Parlamento hanno interrotto. Voi avete sentito sempre parlare del Ministero della Giustizia, ma abbiamo voluto dire ai ragazzi che è quello di costituire il Ministero della Giustizia e della Vincitazione. Il decreto deve essere un provvedimento che nessuno più ci possa dire è illegittimo e anticostituzionale. Grazie a tutti. È una cosa straordinaria quello che state facendo, è una cosa straordinaria tutti questi ragazzi che ci stanno credendo e quindi comunque a prescindere non vanno mai delusi.